L'Austria L'Austria Ma insomma Guardi fa scravare la gente L'ostetrico Posso parlare finalmente? Vorrei colloquiare con il signor pittore Ma che siete voi? E lui chiede Ma va bene dunque La questione di cui devo parlare è molto importante Volevo sapere che Ma insomma come vi permettete Io devo parlare con il signor pittore Se permettete un pittore sono io Voi sono io Ah e lui chi è? Lui è il mio servo Imbecille Cretino Idiota Tu non sai chi sono Tu non sai chi sono io Ma chi siete? Un cameriere Un cameriere Adesso Io e te Io e te Tu da una parte e io dall'altra Piano 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 Ci avviciniamo al morto tutte e due Tu da una parte e io dall'altra Prendiamo il lenzuolo E lo scopriamo Hai capito? Va bene vado dall'altra parte Vai dall'altra parte Vai di là Vai di là Eh Eh Bravo Bravo Piano piano eh Sei pronto Pasqua di E? Pronto Eh? Vado Vai vai Vado Eh Io non lo guardo eh Ma anche io È della paura eh Eh Io l'ho preso Pure io padrone Hai preso Hai già chiamato Allora io conto fino a tre E poi Tiriamo eh Vai Uno Due E tre Vai Uaaaaaah Uaaaaaah Uaaaaah Uaaaah Ha fatto venire l'incidente Ha fatto venire l'incidente Ma va tu Eeeh Vado a sedare Si vado a sedare Per piacere su Ah Mh Non lo voglio guardare perché Non lo guardare che brutto Padrono, sì, ma quante gambe ci abbiamo? Che domande cretili, ma se lo sanno tutti che siamo bibedimplumi, abbiamo due gambe, due, quella destra e quella sinistra, io che cosa buffo? Io ce l'ho una in mezzo.